Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video Allora, iniziamo subito con il dire una cosa Adesso andiamo subito ad aprire l'ordine Fra pochissimo ragazzi mi arriva una routine super spettacolare Quindi lasciate subito un botte di like a questo video Appena uscirà quel video, tanto capirete di quale video Sparrerò Di quale video starò parlando No starò parlando, di quale video parlerò Vabbè insomma, già dal titolo e dall'immagine di copertina Capirete quale sarà il video In cui dovrete lasciare un botte di like Però se lo lasciate pure a questo non mi fa schifo Allora, direi di iniziare Non mi vedo molto bene a specchier Allora, direi di iniziare subito con Senza tanto perderci in chiacchiere Andiamo subito con l'apertura dell'ordine Perché abbiamo qui una cosa Che non è una cosa ma è più di una cosa Innanzitutto avremo il tagliadino Sennò con la plastica non riesco a tagliare E andiamo con Attenzione 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 perché è tutto frascido Qui va piovuto Quindi Problema Ma che cazzo Allora ragazzi Allora Ho perso la voce Ora avete capito perché Non ha capelli Perché in realtà L'ho appena ordinati Eccoli qua Quindi In questo ordine Era un bel paio di capelli Un paio Però allora A parte di scherzi Direi di continuare con l'ordine Perché abbiamo qui Attenzione Una cosa Spettacolare L'omaggio non mi hanno dato Qualc'è Forse c'è Forse non c'è Forse c'è Non c'è Ammazza che Famio Vabbè Comunque abbiamo qui Attenzione Una cosa Spettacolare Che avete già visto Su Instagram Molto probabilmente Che è proprio Questa qui Abbiamo Un mazzo Salad Di Ora ve lo faccio vedere Skyridge Voi direte Perché ho preso Questo mazzo Di Skyridge Se già ce n'avevo uno Perché Uno mi è stato chiesto Almeno lo vendo A quella persona Che me l'ha chiesto Allora Eccolo qua Spettacolo Lo faccio vedere Da vicino Eccolo qui Spam Condizioni perfette Tanta roba Ora mi serve solamente Quello con l'artwork TV Che non riesco a trovare Trovo sempre solo questo L'artwork edixato Vabbè Quindi Se avete l'artwork TV Scambiamolo Lo metto qua E adesso andiamo a vedere Il pezzo di quest'ordine Perché abbiamo Attention Spam Madonna Se sta per aprire Eccolo qui Neo Di Stavo troppo giù Neo Discovery Colpo letale E onda Psichica Mazzo Tematica Guardate Spettacolo In italiano Qui devo stare attento Che questo qua Si sta quasi per aprire La pellicola Tanta roba Ovviamente Da collezione Però la sorpresa Non è che Ci casca tutto La sorpresa Non è questa Ma Attenzione La sorpresa È che Non ho presi due Ma Ben sì Quattro Spam Senza che mi alzo Vabbè Tanto questo qui È lo stesso Che avete appena visto Quindi Eccolo qui Ne ho presi due Appunto Perché almeno Due Posso renderli Soprattutto perché C'è un certo speciale Che saprà arrivare E ora non vi posso Spolerare E niente Quindi Io ne ho Sì E niente Per questo ordine È tutto Ho preso Queste tre cose Che in realtà Sono cinque Perché Quattro discovery E uno scarige Però vabbè Al prossimo video E ricordatevi che Fra pochissimo ragazzi Arriva quell'ordine Spettacolare Quindi Tanti like E niente Per oggi è tutto Saluto Dalla Parrucchino E A prossimo A prossimo Video O sembrava quasi una cosa studiata Invece l'ho improvvisata Mazzone Sono simpatico Mamma mia La tosse Ma che cazzo Non sono appena accorto C'ho questo Madonna Le so grasso A prossimo video A prossimo video Grazie a tutti